Alla fine hanno firmato tutti, è un anime nel mondo la condanna del traffico di organi. C'era molta attesa sulla posizione che la Cina avrebbe assunto, ma anche i funzionari inviati da Pechino hanno siglato senza esitazione il testo licenziato dal Summit organizzato in Vaticano dalla Pontificia Accademia delle Scienze. Invita i leader religiosi ad incoraggiare le donazioni etiche di organi e a condannare la trappa di esseri umani che ha l'obiettivo della rimozione e del traffico di organi. Al primo punto il documento sottolinea che tutte le nazioni e tutte le culture devono riconoscere come crimine il traffico di organi compreso l'uso di organi da prigionieri morti per esecuzione capitale, colpa spesso ascritta in passato alla Cina. Dinamata questa mattina la dichiarazione finale di due cartelle si conclude con un elenco di raccomandazioni indirezzate ai governi, ai ministri della salute, alla magistratura, ai leader delle maggiori religioni, alle organizzazioni mediche professionali. I convegnisti erano riuniti in Vaticano proprio nelle ore in cui si ricordava la giornata contro la tratta di esseri umani. Crimine, sottolineano, che deve essere condannato in tutto il mondo e perseguito da un punto di vista legale a livello nazionale ed internazionale.